Sono Davide Rosso, sono il direttore del Centro Culturale Valdese, o meglio della Fondazione Centro Culturale Valdese, che gestisce un museo storico etnografico, una biblioteca, un archivio, un ufficio di accoglienza sul territorio. Sono anche però membro del Consiglio di Amministrazione del Museo dell'Emigrazione Regionale del Piemonte e mi occupo di storia valdese o di storia delle migrazioni anche. Si potrebbe fare un ragionamento rispetto al mutualismo, all'idea di supportarsi vicendevolmente. Nella storia valdese ci sono in particolare due momenti chiave che rispetto all'idea che noi oggi abbiamo di mutualismo sono un po' lontani. In realtà forse possiamo leggerli come l'inizio o come una manifestazione forte sono, uno appartiene al Cinquecento e l'altro al Seicento come secoli. Sono dei patti veri e propri che le comunità valdesi dell'epoca fecero mettendo insieme le persone, promettendosi, impegnandosi a sostenersi reciprocamente. Questo succede negli anni Sessanta del Cinquecento quando i valdesi, di quelle che oggi chiamiamo valli valdesi, quindi le valle del Pellice, del Chisone ma anche del Brianzonese, decidono di stabilire fra di loro un patto, un patto di sostegno reciproco per resistere a chi li attaccava, a chi cercava di avere la meglio su di loro. La stessa cosa capita nel 1689 quando i valdesi rientrano alle valli in armi per riconquistarsi il diritto a vivere su quelle che per loro era la loro terra e come azione proprio fisica si radunano e si promettono reciproco sostegno. Questa cosa che è sempre stata letta come il patto del podio nel primo caso oppure il giuramento di fedeltà di Sibald in realtà è in nuce, se si vuole, un patto di mutuo soccorso, di mutuo aiuto, dove il soccorso significa aiuto in questo caso, reciproco, reciproco rispetto, reciproco dirsi e noi vogliamo allo stesso modo se siamo tutti insieme. Tutto questo trasportato avanti nei secoli porta all'idea poi del mutualismo vissuto da parte di molte comunità locali valdesi, poi è un concetto che va al di là dell'appartenenza religiosa, ma è interessante forse vedere questa vicinanza insomma. Su questo poi si è anche lavorato molto dal punto di vista della ricerca sulla surroga e sulla sussidiarietà orizzontale, cioè sull'idea che io posso aiutare l'altro ma posso aiutare l'ambiente che mi sta intorno, perché l'ambiente che mi sta intorno fa parte di me, quindi io sono uno degli altri, ma gli altri non sono qualcosa di esterno, sono qualcosa di interno alla mia collettività e al mio benessere sul territorio. Oggi lo prevede la Costituzione questo. Il mutualismo viaggia insieme alle persone in qualche modo, arriva dove ci sono dei gruppi, almeno questo dal punto di vista delle migrazioni, dove ci sono dei gruppi che sono altro rispetto alla società solitamente, questo soprattutto nell'Ottocento, alla società presente e forte in quel momento. Gli italiani sono di solito vittime di questa cosa, non solo gli italiani, anche altri, sono vittime nel senso che sono altro rispetto al luogo dove arrivano. Una delle reazioni che è tipica italiana è quella di radunarsi, nascono le elite l'Italy per esempio, nascono per cercare di farsi forza, ci si mette insieme e si fa fronte comune rispetto banalmente al fatto di non conoscere la lingua, ma soprattutto alle persecuzioni, stavo per mettere le virgolette, in realtà non ci sono tante virgolette, capita proprio quello, il caso di Sacco e Vanzetti è quello più grande, ma ce ne sono un mare di perché c'erano dei preconcetti verso gli italiani in particolare, non solo gli italiani, in Sudafrica e poi ci arrivo, gli austriaci non erano visti meglio degli italiani, per dire tutte cose che oggi a noi sembrano un po' fuori dalla realtà, cioè perché vedere male gli austriaci, ma non so, perché vedere male gli italiani perché erano visti come, soprattutto negli Stati Uniti, come delle persone di colore, un pochino meno di colore, delle persone che rubavano, delle persone sporche, delle persone che avevano una lingua incomprensibile, che non erano capaci di parlarti nella tua lingua e via discorrendo. Tutto questo fa sì che da una parte si sviluppi l'idea di concentrarsi, di mettersi vicini, di stare insieme, questo capita in tanti posti, in altri no, per esempio in Francia non capita molto questo, non così in maniera così forte come per esempio negli Stati Uniti. Dall'altra parte però questo essere sempre gli ultimi, l'ultima ruota del carro, fa sì che ci siano dei costi che il singolo non sempre riesce a sopportare. Costi per difendersi in tribunale, costi per farci seppellire e via discorrendo. Stiamo parlando di cose di questo tipo. E quindi l'idea è quella di mettersi insieme agli altri, costituire delle società di mutuo soccorso in cui si consegnano dei soldi sostanzialmente, si paga una tassa, diciamola così, a cui poi si attinge nel momento in cui c'è bisogno. Ovviamente queste società non sono affidate al caso, hanno di solito uno statuto, sono ben regolamentate, hanno un presidente, un vicepresidente, un consiglio di amministrazione che lo chiameremo oggi, che serve a capire poi realmente chi ne ha bisogno, chi se ne approfitta perché ovviamente in qualunque società umana capitano anche queste cose. Tutto questo viaggia insieme alle persone. Chi parte dall'Italia e arriva in Argentina si organizza in questo modo. Chi parte e arriva a New York, per dire un altro posto famoso che tutti hanno in mente guardando i film, si organizza di solito in questo modo, chi arriva a Kimberley in Sudafrica si organizza in questo modo. Sono un po' diversi i tipi di associazioni e di mutuo soccorso perché sono diversi i contesti d'arrivo. Quindi in Argentina sono più ricchi gli appartenenti al mutuo soccorso, sono persone che stanno un po' meglio, che decidono di mettersi insieme per aiutarsi, perché quello è lo scopo del mutuo soccorso, ma anche per dire noi siamo gli italiani e siamo qui e gestiamo un certo tipo di sviluppo del territorio. Negli Stati Uniti era un po' diverso, lì era proprio mutuo soccorso per difendersi da quello che ti stava intorno. In Sudafrica, nelle miniere di diamante, Kimberley è la zona dove si sviluppano le miniere, tutto questo è fatto proprio per difendersi, per pagare gli avvocati, perché qualunque cosa capitasse intorno si partiva andando a cercare gli austriaci e gli italiani sostanzialmente, spesso gratuitamente, nel senso che non era colpa loro, però bisognava dimostrarlo di fronte alla legge, quindi avevi bisogno di una difesa che ti sostenesse, insomma, e quindi avevi bisogno di avere anche un minimo di sostegno economico. Le persone partono con il loro bagaglio culturale, quindi non è detto che chi parte dall'Italia, perché questo è il nostro tema, insomma, si porti dietro un'esperienza di mutualismo che ha vissuto qui. Certo, se si pensa ai valdesi che vanno in Uruguay, lì in realtà non nasce subito una società di mutuo soccorso, però partono già con quell'idea, cioè c'è un gruppo che parte da qui, di due, tre famiglie, che vanno in avanza scoperta, scoprono cosa capita, chiamano gli altri della chiesa di qua e gli dicono, guardate che, chiamano nel senso che scrivono, non possono telefonare, ma il concetto oggi sarebbe quello, scrivono dicendo se venite qui si sta bene, potete venire. Chiaramente quelli che arrivano là hanno bisogno di essere sostenuti, non è che arrivi e ti impianti direttamente. Nasce questo mutuo aiuto, in cui le prime famiglie collaborano in maniera forte, perché nella seconda migrazione partono in 1956 o una cosa del genere, arrivano là e hanno già una base. Allora lì funziona il mutuo aiuto della chiesa valdese, dell'organizzazione della chiesa valdese. Prima facevo l'esempio del Sudafrica, lì siamo in un mondo completamente diverso, sono persone che arrivano da realtà diversissime. Giacomo Weizsäcker, che è un pastore, ma è soprattutto un geografo in quel caso, che va a studiare queste persone, dal punto di vista geografico, negli anni 80 dell'Ottocento, e ne fa una descrizione. Ci sono persone che arrivano dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Liguria, cioè dal Veneto. Ci sono persone con realtà culturali alle spalle diversissime. Qualcuno ha avuto delle esperienze di mutualismo, altri no. Però quello che gli accomuna è il fatto di essere in un posto e glielo chiedono, glielo dicono e chiedono a lui di scriverlo nella sua relazione alla società geografica, la lontananza da casa, dall'Italia, non da casa loro. E soprattutto l'essere abbandonati a se stessi. Cioè lo Stato italiano non faceva e non diceva nulla, non sapeva neanche che esistessero. Infatti mandano Weizsäcker, come geografo della società geografica italiana, a studiare, a capire se lì c'era qualcuno, qualche italiano. In realtà erano un centinaio, ma erano talmente soli che l'unico modo per sopravvivere era mettersi insieme e inventarsi una società di mutuo soccorso sull'esempio, e per quello che prima citavo gli austriaci, sull'esempio degli austriaci che fanno esattamente la stessa cosa. Siamo negli anni 80 dell'Ottocento, quindi alle spalle teoricamente avevano già il Regno d'Italia da una parte e l'impero austro-ungarico dall'altra. Però erano troppo lontani e quindi l'unico modo per sopravvivere era sviluppare quello che è tipico dell'essere umano, cioè di collaborare, di mettersi insieme e provare a collaborare. O si fa la guerra e l'uomo tende a collaborare, banalizzando. In quel caso quello che cercavano di fare era collaborare fra di loro per salvarsi. Le società di mutuo soccorso, quelle all'estero, tendenzialmente erano legate al luogo di provenienza. Se io ero italiano cercavo di andare a trovare degli italiani, se ero piemontese andavo a cercare dei piemontesi e via discorrendo. Tutto questo ha un senso fino a quando l'identità è molto forte. Poi venendo avanti si sfalda tutto questo o cambia semplicemente. Cioè le persone, la terza generazione, quarta generazione sono più lontani. In alcuni casi questo però si evolve in un'altra cosa, cioè nelle associazioni dei piemontesi nel mondo, per esempio, vista dal punto di vista del Museo delle Migrazioni regionale. Cioè in queste associazioni che nascono in qualche modo per un mutuo aiuto, evolvono e oggi sono molto identitari e in alcuni casi anche molto conservatrici tra l'altro, ma mantengono viva questo legame. E questo capita in Argentina, in Uruguay, capita agli irlandesi in certi contesti, però muta al tutto, non è più quel mutuo aiuto là, è un'altra cosa, è più un fenomeno identitario. Poi ci sono le associazioni che mirano al mutuo aiuto, altre cose, ma sono un'altra cosa, non sono più legati all'appartenenza, alla provenienza, quindi gli italiani stanno con gli italiani, i francesi con i francesi e gli austriaci con gli austriaci, insomma. Oggi si mischiano parecchio. Una delle particolarità dei migranti oggi, al di là del mutuo soccorso, soprattutto italiano, in molte regioni del mondo è quello di non andare a cercare gli italiani, ma di cercare altri come te che sono immigrati, che sono arrivati lì. Bruxelles è il massimo in questo senso, anche se a Bruxelles esiste un forte gruppo di immigrati oggi italiani, ragazzi e ragazze che vanno a lavorare per l'Unione Europea o per queste cose. Ma non c'è proprio, non è l'idea del gruppo etnico degli anni cinquanta, è una cosa un po' diversa. Poi è ovvio che fra i italiani si conoscono e si frequentano, ma è un'altra cosa. Per fare degli esempi di mutualismo un po' particolare dell'Ottocento, sicuramente questo del Sudafrica può essere interessante perché è un caso un po' particolare. Difficilmente si pensa a degli italiani come dei minatori nelle miniere di diamanti sudafricani, si pensa a tutt'altro quando si ha in mente quello. In realtà c'erano e c'erano tutto un mondo che ruotava, come in altri posti, intorno alle miniere e gli italiani erano pienamente inseriti sia come minatori che come piccolo commerciante. Però quello che è interessante dal punto di vista del mutualismo era l'isolamento che avevano queste persone. Cioè erano proprio isolati dal resto degli italiani di casa propria sostanzialmente. O non sapevano che c'erano, ci voleva tantissimi. Tenete conto che uno che partiva allora per andare in Sudafrica ci metteva dai sei ai sette mesi per il viaggio. Non era una cosa così... Cioè noi oggi siamo abituabili l'aereo, viaggio lunghissimo un giorno, questi ci mettevano sei, sette mesi per arrivare là. Se ero un missionario ero 8 o 9 perché dovevi pure passare per l'Inghilterra. Ma vabbè... Quindi era quello il problema. Quindi era fondamentale questo mutuo aiuto fra chi era lì fisicamente. Un altro esempio che invece non è molto conosciuto ed è un mutualismo un po' particolare era quello di sostegno alle ragazze che veniva dato dalle chiese, anche dalla chiesa valdese, in particolare dalla chiesa valdese, alle ragazze che andavano a servizio in Costa Azzurra per esempio e che a fine ottocento rischiavano di finire in quella che poi era chiamata la Tratta delle Bianche. E lì era fondamentale il ruolo delle chiese che aiutavano queste ragazze, le creavano dei gruppi, a Nizza ce n'era uno in particolare ma anche a Marsiglia, creavano dei gruppi che ruotavano intorno alla chiesa ma che servivano a queste ragazze ad avere un sostegno. E il sostegno lì non era tanto economico, c'era, ma non era solo quello economico. L'importante lì era proprio avere un qualcuno di adulto, di autorevole, come di solito poteva essere il pastore o il membro del consiglio di chiesa, insomma una persona di autorevole che poteva consigliarle e aiutarle a affrontare la vita di città. Loro partivano di solito da paesi, da piccoli paesi. E poi c'era l'altra grossa cosa che le aiutava, avere di fianco a loro delle ragazze con cui poter parlare. Quindi, messe insieme, creavi un gruppo di persone che condividevano problemi simili, che avevano la possibilità di superare il problema contingente, ti capitava uscendo o lavorando in situazioni non facili e che ti aiutava a mantenere un rapporto con la famiglia a casa. Perché allora, come oggi, non è così semplice raccontare situazioni un po' scabrose che capitano allora soprattutto alle ragazze. Lontane da casa, avevi bisogno di avere un intermediario, qualcuno che ti aiutasse a spiegare cosa stava capitando. la funzione del pastore, in quel caso il pastore di anime, insomma, il ministro di culto, era quello di mantenere un rapporto col pastore della chiesa di provenienza della ragazza. I due pastori riuscivano a comunicare in maniera più tranquilla fra di loro e a informare anche la famiglia da una parte e a tranquillizzare la ragazza dall'altra. è una forma di mutualismo di cui non si parla molto spesso, ma che è interessante. Fortunatamente, anzi no, purtroppo continua a esserci questo problema, soltanto che stavo per dire fortunatamente per la chiesa valdese, in realtà anche la chiesa valdese continua ad avere questi problemi con le persone che arrivano, migrano e arrivano da noi, da noi inteso come i nostri territori in Italia e su cui bisognerebbe lavorare, cioè bisognerebbe riattivare, in qualche caso c'è, funziona bene, in altri bisognerebbe attivarlo, questa rete di supporto sociale a livello locale o da sole o lontane dal contesto loro o messe fuori dal loro contesto. perché poi nel momento in cui ti moriva l'unica vacca che avevi, ti trovavi escluso dal tuo contesto perché non riuscivi più a sopravvivere. quindi o c'avevi qualcuno che poteva aiutarti e tu rientravi o se no rimanevi escluso, rimanevi fuori. Allora tutto questo idealmente si può superare con la condivisione e quindi con il mutualismo. poi dietro ci si può infilare l'ideologia socialista, ci si può infilare la parola biblica, Romani 12 mi pare, che parla del reciproco aiuto e del dono che tu ricevi e che non sei necessariamente costretto a restituire perché il grosso rischio del duono è quello, mentre il grosso vantaggio del mutualismo è il fatto che tu l'hai già restituito prima di averla questa cosa, perché tutti ci si autotassati e tutti siamo allo stesso livello. Allora se questo è una cosa che vale, valeva ieri come vale oggi e quindi sarebbe bello, sarebbe una bella cosa se riuscissimo a costruire un mondo basato sulla condivisione invece che sulla cattiva interpretazione del dono. No, deve essere, e la reciprocità in questo senso, cioè quando prima parlavo di, ah no non posso dirlo quando prima, vabbè, quando parlavo di orizzontalità, della sussidiarietà orizzontale intendevo questo, cioè se tu sei, se siamo tutti sullo stesso livello funziona, se c'è tutta una teoria sul dono e sull'eccesso di dono, cioè se io ti faccio un dono troppo importante, tu poi mi sei debitore magari al di sopra delle tue possibilità e quindi non siamo più sullo stesso livello. Io sono, prevalgo su di te, per carità ho avuto troppo cuore, però è quello che di solito si crea con le clientele per esempio e quindi quello bisogna evitarlo e per quello che bisogna parlare di condivisione e non di dono, oppure di dono inteso come un qualcosa che è irrestituibile ecco. Grazie a tutti.